Picchiata, umiliata, anche presenza del figlio di appena un anno, costretta a prostituirsi e a guardare il compagno mentre faceva sesso con altre donne. Era l'incubo di una 21enne del napoletano, finito quando la ragazza ha trovato la forza per chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Al termine delle indagini, svolte dai carabinieri, la compagnia di Torre del Greco è stato arrestato un 29enne, destinatario di un'ordinanza di custodia a cautelare in carcere, messa dal GIP di Torre Annunziata, su richiesta della procura. L'uomo è accusato di maltrattamento in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona, induzione, sfruttamento e la prostituzione. Le vestazioni sarebbero cominciate due anni fa e sarebbero proseguite anche negli ultimi mesi, periodi in cui la coppia aveva convissuto in una stanza d'albergo a Bosco Tre Case. Anche lì la ragazza sarebbe stata completamente in balia del 29enne, che l'avrebbe sottoposta a continue vestazioni psicologiche, morali e sessuali, spesso accompagnate da aggressioni fisiche. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata presso i militari e la stazione di Torre del Greco dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti. La ragazza, ripercorrendo quei momenti, quei carabinieri ha raccontato di essere stata costretta a prostituirsi in cambio di soldi, che sarebbero andati direttamente al compagno e di essere stata obbligata ad assistere mentre il 29enne aveva rapporti sessuali con altre donne. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Poggio Reale.